Vedete, io sono cresciuto a Napoli, che è senza dubbio una città meravigliosa e con sacche di povertà e di disagio molto forti, che non riguardano solo le periferie, cosiddette periferie, ma riguardano anche le zone centrali. E così è in tante altre città. E il punto è che ci vuole un cambio di mentalità assoluto, è proprio un cambio culturale. Cioè il nostro Paese deve investire là dove ci sono le problematiche, deve investire soprattutto nei comuni, che sono le istituzioni più vicine alle persone, più vicine ai cittadini, e tramite i comuni si possono fare le operazioni straordinarie rispetto all'investimento sulla formazione, l'educazione, i progetti, la registrazione urbana, rispetto agli assistenti sociali. Cioè dobbiamo fare una grande squadra per riuscire a risolvere dei problemi che sono davvero terribili. E solo in questo modo se riusciamo proprio a dare un cambio di passo culturale, dicendo che questa è la nostra priorità, e dobbiamo comprendere perché non riusciamo ancora a risolverla. Ci diamo un po' di anni per cercare di capire come applicare i progetti, e quando sono applicati capire perché hanno funzionato o perché non hanno funzionato, e andare avanti di conseguenza. Ci sono delle realtà nella periferia e nel centro delle nostre città che sono straordinarie, che hanno una forza e un'anima che non hanno paragoni con niente e con nessuno. Allora noi dobbiamo riuscire a partire da lì per creare poi attorno tutto quell'humus positivo che ci possa portare ad essere un altro tipo di società dove anche il minore è al centro con tutte le sue esigenze. Ognuno ha il diritto di crescere nel modo sano e noi dobbiamo dare questa dignità per poterlo fare. Grazie. Grazie.